Approfittiamo della tua presenza, diciamo, per chiederti se ci sono delle cose che io faccio online e voglio sapere se tu le ritieni da boomer oppure no. Vai. Rispondere su WhatsApp solo con messaggi vocali. Questo lo faccio anch'io, quindi vale tutto. Quindi giovane, ok. Condividere teorie complottiste. Abbastanza boomer. Ok. Modificare foto su Instagram per sembrare più magri. Questo no, questo purtroppo è un super trend nei miei coetanei ed è una cosa che mi dispiace perché credo che quando ti abitui a vedere la tua immagine in un modo plastico, in un mondo dove ti propongono solo modelli di bellezza plastici, a un certo punto quando ti guardi nello specchio ci credo che non ti riconosci più e che non ti trovi più e che non ti vuoi più, ma molto semplicemente dovremmo riabituarci ad apprezzare i corpi belli perché veri e le facce belle perché vere e non plastiche, tutte uguali. Lanciamo un Instagram senza filtri. Vero, bellissimo. Un cozzagram. Andiamo così. Allora, iniziare le stories dicendo ciao ragazzi. No, questo lo fanno anche i giovani. Allora sono giovane. Poi, oh qua è una roba che mi fa un male da morire, aprirsi TikTok dopo 25 anni. Dopo questa quarantena non lo so più se è da boomer perché è talmente tanto esploso che ora ci sono tutti. Poi, un'altra cosa da boomer o non boomer, mettere 20 like a un profilo su Instagram ma non seguirlo. A questo non è da nessuno, chi è che lo fa? Gli stronzi. Andiamo avanti. Mi sapevi. Poi una cosa boomer o non boomer, qua te voglio. fare le stories su WhatsApp. Michela, io le vedo sempre le tue storie su WhatsApp e credo insieme a te solo mia nonna forse fa le storie su WhatsApp. Ma lo sai che le storie... E anche i miei genitori, cioè non so. Chi te le guarda? Per chi le fai? Le stories sono sempre un destinatario, non mentire. Adesso ti dico, Sofì, guarda che chi ti vuole veramente te guarda su WhatsApp. Ricordati, perché chi fa quello che io te blocco, non te voglio vedere su Instagram, per vedere se veramente gli piaci. Ti va su WhatsApp. Da retta una stronza, ti preoccupa. Quindi c'è un motivo. Sofì, io non faccio mai niente per caso, ricordatelo. Anche tu sei qui per un motivo. Ecco, esatto. Andiamo avanti. E quindi, altro che TikTok, rivalutare stories su WhatsApp. Ma che te sto a dire, Sofì, che te sto a dire. Va bene. Poi, è boomer o non boomer, condividere l'oroscopo di Bresni dell'internazionale. Ah, è un po' radical chic, secondo me, non è boomer. Eh, lo so. Ma noi di sinistra siamo così. Va bene, senti. Per essere stata con me, ti voglio omaggiare del vero peticcato oltre al cuscino. Quindi c'è un pacchetto non numerato, che è il mio regalo per te. Esatto. Ma quando li uso, Michela? Ma poi dite a me quando li usi che c'hai 22 anni. Ah, Sofì, ma come? Ma bisogna scopare, Sofia. Ma non mi dire così a me. Ma scusami, ma tu c'hai 22 anni. Io ti voglio dirmi che manda me ne altri. Intanto ricordati di me. Geniale, geniale. Ti piace, mi raccomando. Mi ricorderò di te. Ricordati di me anche in quei momenti. Grazie mille. Cioè tu direi, aspetta un attimo, Franco. Usiamo questi. E tu mi penserai. Mentre nel letto c'è già questo, capito? E non è che lui penserà a me. E se li teorizzavo prima, adesso doppio. E su questa io ti ringrazio, Sofia. Grazie mille per essere stata con noi. Un bacino. Grazie, Sofia. Grazie.